Oggi siamo con un mezzo un po' diverso dalla tesla Ciao La prossima volta vieni con l'elicottero Hai visto che sorpresina, con quante robe mi sorprendo Voi a casa, una al giorno praticamente Visto, a fare YouTube cosa vuoi permettermi Eh, come è Voi a casa, tutta rossa dentro La rossa Lamborghini Che cazzo sta dicendo Si è comprata la macchina, no? No, no, no Ma è strato il tuo rossa racing Che ingorre È tutto morbido È tutto morbido Sembra tipo un set pornografico Tu mi devi presentare a una tua amica, vecchio Ah, ok, solo amiche Anche amici maschi Passo Altro che pettini, guarda che roba Voi accende anche Ah, giusto che roba, fino alle gambe così te le traccia Ma non troppo, però mi schiazza Vecchio Ma anche la retro No, vai solo dritto Ah Vedi i pantaloni sono nuovi Ma dove li hai presi? Subdued Ma sono belli questi, non l'avevo mai visto io Ok, ce l'ho fatto Ma sono belli quelli che ho io L'ho tagliato perché erano lunghi, troppo lunghi Perché anche io quando dimagrisco i pantaloni vanno più lunghi Che diventi più magra e quindi scende No, no, è serie che state facendo questa discussione Guardate che l'ho pure Sale Voi siete già stati in Ferrari? No, no È la prima volta che la guidi? No Ok Senti, mi raccomando Sì Guarda che ne ho due Però insomma Vabbè dai, una possiamo anche perderla No, tavolo È stato bello conoscervi Righe, ti lascio il VR Sei pronto vecchio Adesso vedi che Phil fa finta di non saper guidare Adesso l'ha in traversa Si fa tutta la rotonda di traverso Ma se vuoi fare un video per tenerlo Ma godi il filmo È solo lavoro Vecchio, o ti muovi o ti muovi Vecchio Un cuoio al cappello Non mi ammai vado a fare Non sto scherzando Voi Voi Vecchio 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 Sì Cazzo Sì Porca troia Vecchio Cazzo 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 Finalmente è una macchina da uomo Posso dire Cioè basta Ste macchine elettriche di merda Cazzo Mi senti stavo 12 Dai Dai Ah qua è bello Piano 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 Mi c'è fatto settimana di riscaldamento Beh vabbè se hai un problema di riscaldamento Un po' con 30 gradi fuori e 50 gradi dentro Vecchio Addio al telefono di Phil Vecchio Ma è pazzesca Cazzo Cazzo Poi è devastante Porca miseria Che bomba Che stecchi che tira Che stecchi che tira Che stecchi che tira Porca miseria Che bomba Altro che Tesla Molto meglio della Tesla Queste sono le macchine che devi comprare No I rasoie da etnici Ma Onesto Onesto Com'era ragazzi Stava Cazzo Come è stato ecco Che figata Però le palette potevi mettere gli aliettici Non che credo Non che credo Che belli i Veneti C'è un cibi qua Cosa è Mozart Sinfonia numero 9 Beethoven Qua a destra giusto? O a sinistra? No a sinistra Sì Ma Gabriele ma che cazzo stai facendo? Ah guarda Ah cazzo è vero Ah Qui rimango sulla destra? Sì Sì sicuro Sì Tipo penso di sì Sì Beh devi andare dritto Quindi non a destra Ma sì Ah quindi a sinistra No Ma sei in riserva? 8 fuo di 5 litri di benzina Esatto Vedete scherzate Ma io 100 euro in un giorno gli ho spesi di pieno 800 euro? No 100 euro Ah ok Beh comunque Sì comunque Costà 1,9 Facciamo qui 10 euro Vendono a scendere sto bambino qua con il cazzo intero Cosa? 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 Cosa è sto cavetto Giovi? Una cavetta Questa sono quello dell'airbag Ciao 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 scusa si può pagare con Satisfay per caso? No E allora niente No no Tranquilla tranquilla Raga non hanno Satisfay E allora niente Cioè veramente vecchio Vecchio Sì Hai Satisfay? No Non hai Satisfay Vecchio Con Satisfay puoi mandare i soldi ai tuoi amici Tu puoi crearti salva danai in cui decidi il budget da metterti da parte per quanto spendere Fai la vacanzina e ti metti 500 euro Esatto Dai 500 euro non sono tutti ricchi come te 500 euro li spendi per una vacanza Tu ne spendi 10.000 quindi te ne vengono E che cazzo disse? E non solo puoi anche pagare le multe Cioè tu scansieni la multa e paghi la multa E puoi invitare i tuoi amici su Satisfay e guadagni Cioè diventi ricco Se invece hai 10.000 amici C'è 10.000 amici Fai 100.000 euro vecchio Vecchio potresti avere questa macchina in due secondi Un cerchione di questa macchina Sì Bravissimo E hai anche il cashback del 10% Wow Quazzesco Pazzesco Perichiamo tutti i suoi Satisfay Codice sconto a file Qui sotto Qui sotto in descrizione Scaricatevi Satisfay Per avere L'app Lo dico anche a mia mamma Giovi è benzina o diesel? Sì che è benzina Ok Premi 1 Ho premuto 4 Per provare che il diesel costa meno Comunque Sì forse è tanto Oh Si è fermato Ah no perchè è il limite della carta Ho finito i soldi Ho finito i soldi Ma è qua? Sì Oh no Stiamo ripentendo Ah ma siamo già arrivati Ah ma siamo già arrivati Allora Allora Allora